Mi si sono chiusi tutti, la malavita di oggi non è quella che conoscevo io, quindi sono fuori dal mondo, bisogna essere l'ultimo dei moicani, mi sono innamorato del computer, sono diventato bravino e tra l'altro è quello che penso che possa essere il mio futuro, perché nonostante tutto io ci credo ancora di avere un futuro. Se una condanna deve avere, non dico un senso di redenzione, io non ho mai fatto il pentito, ci sono tantissime cose che non rifarei, quello è un altro discorso, però mi sento lontano da quello che poteva essere il mio mondo, sicuramente cambiato, invecchiato probabilmente anche purtroppo, però sento che se fosse stato un furbo sarei uscito prima di galera. Penso soprattutto a quello che vorrei, che fosse il mio domani. Dunque, allora, ci sono vittime per le quali uno può sentire, almeno io parlo di me, che posso sentire una colpa pesante. Ci sono altre che fanno parte, anche se dire il termine gioco è un tantino fuori luogo, però fanno parte di un… il poliziotto che mi spara non poteva pretendere che gli mandassi i mazzi di fiori, il momento stesso che il poliziotto prende l'indennizzo rischio, vuol dire che sa di poter rischiare di avere un conflitto a fuoco con Val Lanzasca, a me mi sono morti 4 soci sotto gli occhi, 4 amici, ho 13-14 colpi addosso di arma da fuoco, quindi non ho mai fatto quello che… non sono mai stato, non per parlare male del brigattista, ma non sono stato quello che è andato a giustiziare quello che usciva con la moglie e il bambino andando al cinema. Io non ho mai sparato per primo, non ho mai sparato nella schiena la gente, io con il mio codice deontologico sono a posto. Io voglio sempre avere l'opportunità di farmi la barba la mattina potendoci guardare allo specchio senza dovermi sputare in faccia. Il figlio Massimiliano non lo so, capisco quella che possa essere stata la sua reazione, capisco che possa… tra l'altro l'ha saputo dai giornalisti, aveva 14 anni all'uscita della scuola, quindi sicuramente è stato uno shock sapere di chi era figlio quando lui pensava di essere figlio di un altro papà e so che ad esempio a sua madre non l'ha più guardata per un pezzo, insomma ci sono stati… quindi mi rendo conto che sia stato… mi sono illuso probabilmente di… che potesse dimenticare o quantomeno che il suo risentimento ai miei confronti si attenuasse col tempo. Niente, vorrei abbracciare, vorrei stringergli la mano.